Rinvio a giudizio per fondi, il cui processo inizierà il 30 gennaio 2023 e archiviazione per Costantini sono le novità sulla truffa alla Fondazione Kariciv. Ha provato a sfondare la porta di casa dell'ex fidanzata, per questo un 32enne è stato arrestato dai carabinieri, l'uomo era anche in possesso di 180 grammi di hashish. Il porto di Civitavecchia è in zona retrocessione nella classifica degli scali italiani sulla base dei traffici container, la graduatoria pubblicata su Shipping Italy conferma un andamento flop. Non solo attività marittime a Civitavecchia potrebbero esserci occasioni legate a insediamenti industriali che arrivano dall'Asia, la TSMC cerca case in Italia per produrre microchip. Dopo la retrocessione in serie B, la NC Civitavecchia pensa al futuro, tanti nodi da sciogliere a partire dall'allenatore, arrivando alle conferme dei senatori, passando per il settore giovanile. Buonasera dal nostro telegiornale, niente processo per Stefano Costantini, la cui posizione è stata archiviata, mentre per Patrizio Fondi il procedimento avrà inizio il 30 gennaio del prossimo anno. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari nell'udienza preliminare svoltasi ieri pomeriggio in tribunale. I due erano accusati di aver intascato somme per favorire l'investimento da 19 milioni di euro proposto alla fondazione Caricev dalla LP Swiss, la società del finanziario elvetico Danilo Larini. I particolari nel servizio. Processo per Patrizio Fondi e archiviazione per Stefano Costantini. È l'esito dell'udienza preliminare svoltasi ieri pomeriggio al tribunale di Civitavecchia presieduta dal GIP, il dottor Francesco Filocamo, nel quadro dell'inchiesta sulle presunte responsabilità in sede locale in merito alla truffa subita dalla fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia che vide andare in fumo 19 milioni di euro nel 2015 dopo averli investiti nella LP Swiss del finanziere svizzero Danilo Larini. Fondi, all'epoca membro della commissione investimenti dell'ente di via risorgimento e Costantini, stretto collaboratore di Larini, erano entrambi accusati di truffa per aver favorito il promotore finanziario elvetico. Nel corso dell'udienza preliminare di ieri pomeriggio, il giudice delle indagini preliminari ha sostanzialmente accolto le richieste dell'accusa rappresentata dal sostituto procuratore della Repubblica, dottor Mirco Piloni. Il magistrato infatti aveva scisso le posizioni dei due indagati visto che Costantini era stato già giudicato in Svizzera nel quadro dell'inchiesta condotta dalla magistratura elvetica e assolto con formula piena. Non poteva quindi essere giudicato per lo stesso reato dai magistrati di un altro paese. Di qui la richiesta di archiviazione accolta, come detto, dal GIP. Diverso il discorso per Patrizio Fondi, che nel processo, la cui prima udienza sarà fissata già per il 30 gennaio 2023, dovrà rispondere dell'accusa di truffa aggravata, oltre che di alcuni reati di carattere fiscale. Porteremo elementi a sostegno della perfetta buona fede di Fondi, spiega il legale del commercialista l'avvocato Lorenzo Mereu, il quale è totalmente estraneo rispetto ai fatti che gli vengono contestati. D'altronde non è casuale che la magistratura svizzera abbia assolto con formula piena il dottor Costantini nel quadro della stessa vicenda. Un 32enne civita vecchiese già conosciuto alle forze dell'ordine è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della caserma di via Antonio da San Gallo. L'uomo è stato fermato mentre nel pomeriggio di sabato scorso in via Terme di Traiano stava tentando di sfondare la porta d'ingresso dell'abitazione della sua ex fidanzata che si era barricata all'interno aveva poi chiesto l'intervento dei militari. La 32enne è stato bloccato e una successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di circa 180 grammi di hashish oltre a un bilancino di precisione e a materiale utile per il confezionamento in dosi. L'uomo è stato associato agli arresti domiciliari e quanto rinvenuto posto sotto sequestro. Non ci sono solo lo sviluppo delle attività marittime del retroporto tra le possibili occasioni di crescita per cività vecchia. Si stanno infatti affacciando in Italia alla ricerca di spazi dove insediare industrie di rilevanti dimensioni importanti aziende di livello internazionale. Tra queste la TSMC, società di Taiwan, leader nel settore dei microchip, che pensa di aprire una fabbrica in grado di assicurare almeno 3.000 posti di lavoro per un investimento di circa 10 miliardi di euro a riguardo il servizio. 100 miliardi di investimenti nell'arco di tre anni per aprire una fabbrica di microchip e creare almeno 3.000 posti di lavoro che potrebbero diventare 5.000 senza considerare l'indotto. È l'ipotesi sulla quale la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, più conosciuta come TSMC, ovvero la più grande azienda mondiale del settore, sta discutendo con il governo italiano. Per territori che hanno grandi potenzialità inespresse, come quello di Civitavecchia, sarebbe davvero una manna dal cielo e rappresenterebbe uno straordinario tassello di quel nuovo modello di sviluppo tanto auspicato. Il problema è che, a quanto pare, le attenzioni si starebbero concentrando in altri territori, in particolare nella Lombardia o nel Veneto, due regioni che a livello di insediamenti industriali sembrano avere già abbastanza. Non è dato sapere se l'attuale opzione di insediare la TSMC nel Lombardo-Veneto sia figlia della presenza di rappresentanti della Lega nel cosiddetto governo dei migliori, oppure se prenda spunto da presunti vantaggi. Il Corriere della Sera, che ha scritto della questione, parla di un'elevata domanda di semiconduttori per macchine utensili, della vicinanza di centri universitari con i quali avviare programmi di formazione, della disponibilità di manodopera qualificata a costi inferiori rispetto alla Germania e di una minore densità di concorrenza proprio nel settore dei microchip. Tutti elementi che può vantare però anche il territorio di Civitavecchia, che a pochi chilometri ha la migliore università italiana secondo la classifica mondiale elaborata di recente dal Center for World University Rankings, ha la disponibilità di un porto di rilevanti dimensioni, è collegata alla capitale da un'autostrada diretta che in poco più di mezz'ora ti consente di raggiungere l'aeroporto di Fiumicino e soprattutto a un retroporto enorme vicinissimo alle maggiori arterie stradali e con la linea ferroviaria distante poche decine di metri. E siccome questo territorio tanto ha dato e tanto sta dando tuttora al sistema paese attraverso una notevole fornitura di energia prodotta dal carbone, sarebbe più che doveroso un giusto riconoscimento tale da risarcire le attuali e le future generazioni del sacrificio prodotto in termini di ambiente e salute. È in questi contesti peraltro che si misura il livello di una classe politica e la sua capacità di farsi ascoltare. D'altronde, lo abbiamo già scritto, adesso Civitavecchia è, a riguardo, in una posizione di assoluto privilegio. La città ha un sindaco della Lega e la regione amministrata dal centro-sinistra con l'appoggio dei 5 Stelle. Fratelli d'Italia, l'opposizione in entrambi i contesti, non crediamo si metterebbe di traverso. Tutti insieme, magari appassionatamente, hanno quindi la migliore occasione per dimostrare che si può fare qualcosa di veramente incisivo per il futuro di questo territorio. Qualcosa di davvero grande, di straordinariamente reale in termini di sviluppo economico e occupazione. Niente a che vedere con le nomine nei posti di potere, i convegnucci di basso profilo che servono solo a mantenere contatti con i vassalli di turno. Due giganti del mare, uno di fronte all'altro nel porto di Civitavecchia. Questa mattina ha traccato per la prima volta nel porto di Roma la nave portacontainer MSC Tomoco, la più grande mai ormeggiata nel locale Scalo Marittimo, 332 metri di lunghezza e una capacità di carico di 8.400 contenitori. Le delicate operazioni di manovra e la complessa rotazione della nave sono avvenute in concomitanza con la presenza della più grande nave da crociera al mondo, Wonder of the Seas, attraccata presso l'antemurale. Oggi dichiara il presidente della DSP, Pino Musolino, è un bel giorno per il nostro porto in cui si è dimostrato una volta di più con la contemporanea presenza di due navi di dimensioni eccezionali come l'infrastruttura portuale di Civitavecchia, sia in grado di accogliere e far attraccare e manovrare senza problemi le navi più grandi al mondo. L'unità di crisi presso la cabina di regia comunale sul lavoro si occuperà del caso Tecnomate già la prossima settimana. Questo quanto annuncia il gruppo consigliare della lista tedesco in una nota a firma del capogruppo Mirko Mecozzi e delle consigliere Barbara Larosa e Roberta Morbidelli. Abbiamo ricevuto notizia certa che l'assessore Barbieri convocherà per la prossima settimana la cabina di regia sul caso Tecnomate. Esprimiamo soddisfazione perché l'amministrazione ha ascoltato la nostra sollecitazione, a maggior ragione, dopo le notizie di nuovi licenziamenti che ci hanno raggiunto nei giorni scorsi. Occorre ricordare peraltro che non solo si tratta di una situazione insostenibile per le famiglie dei dipendenti ma anche di una possibile dispersione di competenze uniche in un settore delicato quale quello dell'antinquinamento in ambito portuale. Apprendiamo con soddisfazione che allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le autorità di sistema portuale possono costituire una o più comunità energetiche rinnovabili. Inizia così una nota di Civitavecchia bene comune che scrive all'assessore regionale alla transizione ecologica Lombardi, al sindaco tedesco e al presidente dell'autorità portuale Musolino per rilanciare il progetto che punta portare il porto di Civitavecchia ad avere emissioni zero con un riferimento a quanto previsto dal decreto aiuti. Ci aspettiamo dal presidente Musolino un'accelerazione a procedere verso la completa ambientalizzazione del porto seguendo l'iniziale progetto di porto bene comune. Scrivono all'assessore a Lombardi chiediamo di incoraggiare e promuovere l'operazione porto bene comune e al sindaco tedesco chiediamo di interpretare la volontà della comunità di Civitavecchia e di farsene portavoce sollecitando e seguendo in prima persona la realizzazione dei progetti in corso. Sono stati ufficializzati nei giorni scorsi in uno speciale della rivista specializzata Shipping Italy i dati definitivi aggiornati dei traffici nei porti italiani nel 2021 sulla base dell'annuale relazione prodotta da Assoporti. Per quanto riguarda il settore dei contenitori arriva purtroppo la conferma di quanto era stato già anticipato nello scorso mese di febbraio ovvero che Civitavecchia è scivolata di un'altra posizione e si trova adesso al terzo ultimo posto nel panorama nazionale e servizio. In un ipotetico campionato italiano delle autorità portuali Civitavecchia sarebbe in piena zona retrocessione per quanto riguarda i contenitori. Nei giorni scorsi la rivista Shipping Italy ha confermato i dati definitivi dei traffici relativi al 2021 secondo anno di pandemia che ha visto però crescere ulteriormente la movimentazione dei container dappertutto tranne che a Civitavecchia. I dati definitivi aggiornati nell'aprile scorso direttamente da Assoporti l'associazione che raccoglie le 16 autorità portuali italiane confermano le anticipazioni infornite il 14 gennaio scorso dal TRC Giornale ovvero che lo scalo marittimo locale aveva perso Teo rispetto all'anno precedente ed era stato scavalcato da quello di Cagliari trovandosi alla fine del 2021 al terzultimo posto della graduatoria nazionale. I dati definitivi riguardanti la movimentazione dei contenitori vedono una crescita complessiva del 2,3% rispetto al 2020 con saldamente in testa Gioia Tauro seguita a debita distanza da Genova e La Spezia che completano l'ipotetico podio nazionale. A seguire tutti gli altri porti Livorno, Trieste, Napoli, Salerno, Ravenna, Venezia, Ancona, Savona, Marina di Carrara e come detto Cagliari che con 109.653 Teu ha scalzato Civitavecchia fermatasi nel 2021 a quota 100.248 e che è seguita in fondo alla classifica solo da Bari 70.254 Teu e Catania 58.471 Teu. Che dire? Ben poco rispetto a quanto già detto da un decennio a questa parte senza che si sia assistito in qualche modo ad una minima inversione di tendenza. Così succede che nel settore dei contenitori il 2022 si è iniziato ancora peggio rispetto all'anno precedente senza che la cosa sia stata in qualche modo presa in considerazione da qualcuno e che il sogno di una possibile crescita alimentato dalla Reefline nei mesi scorsi si sia già spezzato. Dopo l'iniziale entusiasmo che aveva portato all'annuncio di diversi collegamenti mensili non solo con la Cina ma anche con altri paesi dell'Estremo Oriente si è tornati ad una sola nave ogni 20 giorni. Nel frattempo Reefline ha iniziato a caricare e scaricare anche nei porti di Salerno e Ravenna. Resta stabile la discesa dei casi Covid nel territorio dell'Asl Roma 4. Il quotidiano report elaborato dall'assessorato regionale alla sanità segnalava ieri 212 nuove positività in tutto il territorio dell'azienda sanitaria locale. Praticamente lo stesso numero del mercoledì precedente quando i nuovi positivi erano stati 214. Nel report di ieri erano contabilizzati 25.300 tamponi mentre in quello della settimana precedente erano stati 27.400. Rimane basso anche il tasso di positività mentre fortunatamente sia nel report di ieri che in quello della settimana precedente non sono stati segnalati decessi. Si chiama l'economia del mare opportunità di crescita per lo sviluppo del territorio. Il convegno organizzato dal Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host in programma venerdì alle ore 17 all'hotel San Giorgio. Parteciperanno all'evento il senatore del PD Bruno Storre, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e il primo cittadino di Santa Marinella Pietro Tidea. Interverranno anche il presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino e il presidente dei Lions Mario Manduzio. Intervista. Quali iniziative all'interno di questa politica che intende anche così discutere insieme a tanti importanti personaggi il Lions? Dunque questo convegno da quando sono diventato presidente del Lions Club quest'anno proprio perché dall'inizio nel mio programma ho voluto inserire il porto di Civitavecchia perché per me è fondamentale che ci sia un osmosi fra la città e il porto di Civitavecchia. L'economia del mare è un modo diciamo così un po' particolare per definire questa opportunità diciamo perché io credo che adesso con le nuove leggi, con il PNR, con la possibilità degli imprenditori locali e di altri imprenditori ovviamente di investire nei porti quindi particolarmente Civitavecchia che credo che sia il secondo porto del Mediterraneo ed è fondamentale porto croceristico italiano diciamo credo che abbia una importanza per l'economia futura di Civitavecchia incredibile. Ho cercato di appunto coinvolgere i due diciamo i nostri sindaci perché il nostro club si chiama Civitavecchia Santa Marinella che sono due sindaci molto importanti con il senatore Astorre che ci verrà a dare un saluto e poi con il presidente della dover portuale Pino Musolino che è una persona giovane che io ho conosciuto e mi è sembrato molto 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 preparato e che ha voglia di fare ecco in questo senso. Lo sviluppo di Civitavecchia è stato sempre al centro dei nostri interventi. Io ricordo che negli anni 80-90 facevamo i convegni insieme al club di Viterbo sulla superstrada Civitavecchia che purtroppo ancora non è completata. Quindi anche questa volta vogliamo mettere al centro del dibattito i programmi di sviluppo del porto. Però con due messaggi che vogliamo lanciare. Uno che bisogna uscire fuori dalle municipalità dei singoli comuni e lavorare su una dimensione di carattere territoriale in modo da coinvolgere tutti perché noi abbiamo un territorio con notevoli risorse naturali, storiche eccetera che può essere alternativo anche al solito viaggio a Roma. E il secondo è che bisogna mettere insieme le sinergie di tutti quei soggetti economici e sociali che interloquiscono la società civile. Non dimentichiamo che a Civitavecchia, voglio ricordare, c'è un po' l'universitario molto importante che sta scommettendo molto sull'economia del mare e quindi anche indirettamente anche del porto e questo significa prospettive di lavoro per i giovani. Allora Presidente ricordiamo l'appuntamento è dove? Domani al Grand Hotel San Giorgio alle ore 17 e dopodiché seguirà un piccolo apericena in cui però tutti quanti sono i personaggi che interessati e le società portuali possono intervenire e dire la loro. Io spero di poter creare un dibattito, a volte anche un contraltare perché questo fa crescere. Continua il presidio delle ardite a Piazzale degli Eroi contro la guerra. Ogni mercoledì dal 20 aprile l'Associazione Femminista si riunisce per esprimere la contrarietà verso la guerra. Noi donne affermano le ardite, auspichiamo che le parti tornino a parlarsi, che si arrivi ad una trattativa per far cessare i combattimenti. Questa guerra sta avendo ripercussioni economiche in tutto il mondo, le nazioni si stanno riarmando e spendendo ingenti risorse i nuovi armamenti, risorse tolte alla sanità, alla scuola, al lavoro. Il comune di Civitavecchia, assessorato alla cultura nella persona del sindaco Ernesto Tedesco, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, promuove il progetto nazionale Omaggio a Pierpaolo Pasolini, luoghi, linguaggi e tradizioni popolari. Ideato dalla torre regista Agostino De Angelis e organizzato dall'Associazione Culturale Archeo Teatron, un percorso culturale con una mostra fotografica visitabile dal 22 al 29 maggio, dalle ore 15 alle ore 19.30 e uno spettacolo teatrale che andrà in scena presso la Sala Morricone della Cittadella della Musica, venerdì 27 alle ore 21. Appassionata ed ironica riflessione sull'opera in romanesco del Belli di Pascarella e di Trilussa, attraverso il percorso in una divertente e significativa antologia della forza espressiva che a Roma quando si racconta. Ci stiamo riferendo a Trittico Romano, lo spettacolo che andrà in scena domenica 29 maggio alle ore 18 presso il Teatro Taj Lucia sul palco Luigi Tani, che sarà anche il regista. Tra gli argomenti di cui si parla di più in città in questi giorni c'è sicuramente la retrocessione della NC Civitavecchia e la fallimentare stagione che per fortuna sta per terminare. La speranza è che il futuro del club Rosso Celeste possa essere decisamente migliore, anche se ci sono tantissime incognite da superare, tra cui alcuni importanti addi. Il servizio. Sono passati ormai diversi giorni, ma l'amarissima retrocessione della NC Civitavecchia in Serie B continua a tenere banco. Sabato sfida alla Muri Antichi, ma non è una gara che in questo momento interessa l'ambiente pallanuotistico. In città si sta parlando tantissimo di quella che è stata una stagione fallimentare per la NC. Questo è il momento di ragionare su quello che potrebbe e che forse dovrebbe essere la NC del futuro. Bisogna sicuramente ripartire dal settore giovanile. Un tempo i Civitavecchiesi erano maestri dei vivai italiani e da tanti anni sono comprimari. Qualche bella avventura c'è stata, come il quarto posto dell'Under 20 nel 2017 con i trascinatori Checchini, Caponero ed Enrico Calcaterra, poi finiti a rinforzare i club romani. Ma per il resto parliamo purtroppo di briciole, segno che poco o nulla è stato fatto per migliorare le cose. Tornando a parlare della prima squadra, la sensazione è che essi si è giunti alla fine di un ciclo nel quale le soddisfazioni non sono state davvero molte. I tempi dell'A1, di cui ricorre proprio ora il decimo anno di assenza, oppure delle bellissime partite dei playoff di A2 con oltre mille spettatori al Palagalli, sembrano far parte di un remotissimo passato. Sicuramente c'è stata una forte riduzione nel budget per affrontare le varie stagioni, ma allo stesso tempo la società non ha creato un progetto e non ha tirato fuori delle idee. Si è assistito ad una discesa continua verso il basso. Tra il 2012 e il 2018, dal ritorno in A2, gli amanti della palla a nuoto hanno ammirato giocatori come Foschi, Rinaldi, Fratelli Muneroni, Alessandro Calcaterra, Jimonic, Janetic, Jogas, Bogdanovic e molti altri, chi per un motivo, chi per un altro, ha lasciato la squadra. Qualcuno forse l'ha fatto anche perché aveva capito che l'NC non sarebbe andata lontano, ma non ci sono stati né sostituti all'altezza né giovani in grado di proseguire il percorso intrapreso nel passato. E proprio dal glorioso passato potrebbe ripartire l'NC per l'avventura nell'inferno della Serie B. Stando ad alcune indiscrezioni, ci potrebbe essere un cambio alla guida tecnica. Ad assumere il ruolo di allenatore potrebbe toccare ad un decano della palla a nuoto, ovvero Marcello Del Duca, tornato negli scorsi mesi a far parte della società. Del Duca potrebbe essere affiancato da un attuale giocatore del gruppo Rosso Celeste che attaccherebbe la calottina al chiodo per svolgere le funzioni di vice. Stiamo parlando di Daniele Simeoni. Ed altri due senatori dello spogliatoio Civitavecchiese potrebbero pensare di chiudere la loro esperienza, capitano Davide Romiti e il portiere Giordano Visciola. Ripetiamo che si tratta di rumors al momento non confermati e i prossimi mesi faranno capire se questi scenari diventeranno realtà. Sicuramente ci sarà da affrontare l'argomento sui prestiti, sugli scambi di giocatori tra l'NC e le società romane. Coinvolti da una parte Gatto e Martinelli, arrivati dalla Roma, e dall'altra Checchini, scivolato in A2 con la Lazio, e Maizzani, che si è salvato in A1 con la Roma. Archiviata la parentesi triennale con Ferdinando De Maria per la Stemmar 90 cestistica, è il momento di definire chi sarà l'allenatore per la prossima stagione nel campionato di Serie C Gold di palacanestro. Dopo aver tracciato l'identikit del nuovo coach, i dirigenti rossoneri stanno vagliando in questi giorni diversi profili di tecnici che possono rispondere alle loro esigenze. Sembra che le attenzioni siano soprattutto concentrate su professionisti che in un passato più o meno recente hanno calcato parquet di categorie superiori, come la Serie B o la Serie A2. In Casa Stemmar si lavora anche per reperire nuove sponsorizzazioni al fine di costruire una squadra che sia sugli stessi livelli di quelle che negli ultimi anni sono arrivate più volte a un passo dalla promozione in Serie B. Nel derby di seconda categoria festeggia il DLF. Al Flavio Gagliardini i Biancoverdi hanno superato per 3 a 2 la Sampio Decimo. È stata una sfida molto calda perché oltre ad essere in una stracittadina si trattava di uno sconto diretto per la promozione in prima categoria. In vantaggio ci sono innanzitutto il Rosso Blu con un rigore trasformato da Perilli. Un tiro deviato da Gatti consente ai Ferroviari di pervenire al pareggio. Ad inizio secondo tempo la formazione di Mario Castagnola torna avanti con Gagliardi. Partita nervosissima con 5 espulsioni. Il DLF resta addirittura in 8 mentre la Sampio Decimo gioca in 9. Nonostante l'inferiorità numerica l'11 di Livio Valle Andrea Rocchetti rimonta con il rigore di la Rosa e la penetrazione vincente di Cirotto. Ora il DLF comanda la classifica con un punto di vantaggio sul Montalto mentre la Sampio Decimo a meno 7 a due giornate dal termine è fuori dai giochi. Un'esperienza bellissima da vivere intensamente. Quella che stanno per affrontare le sniperine CRT che quest'anno hanno ricevuto l'invito da Ripescate per partecipare alla Champions League. Da domani a domenica le ragazze della CV Skating saranno a Risorangie in Francia per disputare la massima manifestazione europea, cosa che avviene per la prima volta del club nerazzurro nella sua storia decennale. Tanta voglia di fare bene e senza borsi obiettivi. Questa è atmosfera che regna nel gruppo di Martina Gavazzi e Riccardo Valentini. Tutte presenti ad eccezione di buzzi per motivi scolastici e dell'infortunata Ercolani. Le sniperine CRT giocheranno per la prima fase domani alle 13 con le padrone di casa del Risorangie e alle 21 con il Sempaten. Sabato alle 11.30 con il Trescantos e alle 17 nel derby italiano col CUS Verona domenica alle 9.50 con il Semmedard. E termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo di seguirci anche sui nostri profili social Facebook, Youtube e Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Io vi ringrazio per la gentile attenzione e auguro a tutti un buon proseguimento di serata anche con i nostri programmi. Subito dopo di noi uno speciale dedicato a Ping Pong Pang e a seguire il film tratto dall'omonima opera di Agatha Christie, Dieci piccoli indiani. Arrivederci.